Ciao da Fatina Birichina e... Spinky Picchia Oggi abbiamo comprato l'album dei Me Contro Te, il film Allora, l'album era nella confezione, l'abbiamo già aperto con due bustine, giusto? Ok, e l'abbiamo pagato qui 2,99 euro Poi abbiamo preso anche altre 8 bustine quindi in totale ne abbiamo 10 al costo di 70 centesimi la bustina Andiamo a vedere come è fatto quest'album Vai, spinky, sfoglia l'album così facciamo un po' vedere come è all'interno Allora Questo è l'album di... Ma che faccia? Spaventati, ok Poi qui vediamo A casa di Sofì e lui l'atmosfera è tesa Sofì sembra nervosa Quindi a quanto pare c'è raccontata anche un po' la storia del film Ecco Che bello Hai già aperto una bustina, spinky? Anche due Vediamo cosa hai trovato Aspetta che richiudiamo Ho trovato lui Lui Cartoon Sofì e lui Perfidia è il signor Cattivius Perfidia Sofì clone Oh che bella Questa è tutta glitterata Lui Lui è di albero e Sofì spaventata Il laser con lui Lui in mezzo ai laser Ok E la signora Marisa Oh bella anche questa col glitter Allora questa hai detto che sono due bustine Ne hai aperte due Quindi vediamo Quante sono? Cinque figurine in ogni busta Ok Va bene Intanto questo video lo facciamo terminare qua Speriamo che vi sia piaciuto E andate ad acquistarlo in edicola Me contro te Il film Noi vi salutiamo E vi diamo appuntamento al prossimo video Ciao Un bacione Da Fatina Birichina E Spinky picchia Ciao ciao Ciao